Buonasera, ben ritrovati ancora una volta qui insieme negli studi di Rete 55, con Bocce Forum e parliamo della bocciofina malnatese, era un po' che non lo facevamo, per fortuna è tornato a trovarci il Presidente Luigi Gualandi, ciao Luigi. Buonasera, buonasera a tutti e buonasera anche a Carlucci Martignoni. Buonasera da Malnate, mi pareva giusto esserci. Nelle vesti di… Niente, un po' di tutto. Malnatese. Malnatese, soprattutto. Partiamo dal Presidente, prima di parlare, lo vedete anche dalla nostra inquadratura, grazie Piera in regia, eccolo qui, dietro Carluccio, SD Bocciofina malnatese organizza gara regionale a coppie, divisa fino a terza partita, tabellone C. Prima di parlare di questa gara importantissima, che poi è il trofeo di Noma Cecchini, che torna a Malnate, chiedo al Presidente, come facciamo ogni volta, di farci un po' un bilancio della situazione, di come stanno andando le cose per la Bocciofina malnatese. Stanno andando abbastanza bene, cioè di novità, la novità è questa qui per adesso, per i prossimi mesi, però diciamo che sono andate abbastanza bene, le vittorie purtroppo latitano, però vabbè speriamo che con l'anno prossimo di vedere, di riuscire a mettere in piedi qualche cosa di un po' più, più che altro invogliare la gente a andare a giocare in gara, però nel complesso le cose vanno bene, via, diciamo che la società funziona abbastanza bene, almeno penso e spero, perché io sono la prima persona a dire che va bene, sai, è sempre facile, però in linea di massima andiamo bene. Chiederemo conferma adesso a Carluccio, che è anche ex Presidente, però prima volevo chiederti anche, perché l'ultima volta che ci siamo visti eravamo proprio in queste posizioni, io, Carluccio e Gualandi, che era diventato da pochissimo ufficialmente il nuovo Presidente, quindi chiedo proprio a Luigi come sta andando la nuova esperienza da Presidente, c'è qualcosa di positivo, c'è qualcosa di negativo? Io il negativo non lo considero, secondo me il negativo non lo considero, io spero di essere, non voglio essere bravo come Martignoni perché è difficile, perché lui è il massimo che si può avere come Presidente, però cerco di mandarlo avanti nel migliore dei modi, certo, mi aiutano perché mi aiutano, lo stesso Carluccio mi aiuta in cose dove purtroppo ho delle lacune anch'io, non sono un fenomeno di… e quindi bene o male, un po' tutti mi aiutano e andiamo avanti bene. Quindi con umiltà e passione possiamo usare queste due parole, Carluccio, la mannattese stanno andando avanti. Certo, bisogna dire che il compito del Presidente è un compito facile quando si è attorniato da collaboratori capaci, questo ci sono, questa volta ci sono, si trova veramente a un buon accordo, poi bisogna dire che lui parlava delle gare, sì è vero, è importante che ci siano le gare, ci siano i giocatori che vanno a fare le gare e che vincano, quest'anno poi c'è la possibilità perché qualcuno è retrocesso, qualcuno è avanzato ma abbiamo una buona formazione di B e anche una buona di C, non abbiamo la A ma non fa nulla, si può vincere anche con la C e con la B, ma il compito principale di un sodalizio come il nostro è quello di avere la società, la presenza della società tutti i giorni sul campo, noi abbiamo un bel po' di nostri soci che vengono tutti i giorni a giocare, che passano il tempo da noi, che ci danno anche il contributo per mantenersi anche dal punto di vista economico perché è importantissimo, poi adesso si sta facendo una cosa molto importante che è quello di prepararci al famoso anniversario del 90 anni di attività della vociofila mannatesi, dalla nascita, l'anno prossimo sarà questo un momento molto importante, stiamo preparando anche, organizzando anche delle manifestazioni, stiamo rinnovando la cucina, quella che è esterna, che poi verrà usata durante tutto l'anno se possibile per fare manifestazioni che non abbiano solo quello delle voce, ma per attrattare la gente bisogna dargli anche da mangiare, possibilmente bene e questo sarà il nostro compito, perciò è veramente interessante l'anno a venire. Prima hai detto non ci siamo in Serie A, io posso dirti invece che ti stai sbagliando perché un pezzettino di malnatese c'è che chi appella in prestito all'altro verbano. Sì, ma chi appella diciamo che sarà difficile che torni, lui dovrebbe tornare, però ci vogliono i presupposti, lui viene, va in una società dove se non può andare lui a giocare c'è sempre un altro di A, se ce n'è uno solo di A non è sufficiente, bisogna che ce ne siano altri per fare gli intercambi, perché quando si iscrivono due gare e se non simultanea ci vuole qualcuno che vada a sostituirlo per poter avere, altrimenti si pagano delle grandi iscrizioni per nulla. No, sarà difficile, per noi è stato un grande onore avere Chi appella da noi, è un amico, è riconoscente a noi, ma noi siamo riconoscenti a lui, questo è veramente una bella cosa. E riconoscenti anche a Paolo Macecchini, giusto Luigi, che per voi lavora sempre dietro le quinte e non solo dietro le quinte, anche in primo piano e qui mi collego e ti chiedo appunto di presentarci poi il sesso trofeo. Per noi Paolo Macecchini è un punto fermo della società, anche se lui non vuole mai mostrarsi, però è un punto fermo, infatti con questa manifestazione anche stavolta si è superato, nel senso che ha messo lì un'amministrazione, pur essendo una gara serale regionale, ha un livello di premi che è quasi, non voglio dire quasi nazionale, però diciamo che lo dico, è quasi nazionale, forse qualcosa in più. Vediamo tra l'altro premi, dal primo all'ottavo posto. Sì, primo all'ottavo posto. Che gara ti aspetti? Tecnicamente proprio, sportivamente parlando? Tecnicamente e sportivamente parlando mi aspetto che venga della gente di qualità per far vedere ai nostri soci il gioco delle voce nella massima espressione, delle belle partite e aspetto il pubblico più che altro, il pubblico perché una manifestazione del genere merita pubblico. Terluccio? Sì, diciamo che i premi che ci sono in palio sono notevoli, una nazionale non sempre, anzi quasi mai arriva a questi livelli, perché se facciamo il conto di ai primi due vincitori della copia vincitrice si becca 40 grammi di oro, vuol dire se uno fa il conto 34 euro al grammo, fa in fretta per due conti e si trova più i premi che sono quelli che vengono dati normalmente in lire, in euro. Ma diciamo che è una gara che noi aspettiamo veramente il meglio, non dico dell'Italia, ma di tutta l'altra Italia, perché con premi di questo genere si ha davvero il massimo. E' vero anche che essendo limitata la terza partita le categorie inferiori sono un po' penalizzate, perché nella quarta partita si trovano campioni anche del mondo. Due facce dalla medaglia, è anche bello andare a affrontare i campioni. Quelle DC quando vincono la batteria sono felici, perché sono già contenti di aver vinto una batteria in una gara di questa importanza. Poi se vanno a giocare contro i Mussini e gli Antonini è un piacere anche per loro perdere, vuol dire ho perso ma da Mussini, non è da poco, è come se la mannatese perde dalla Juventus nel calcio. Perciò no, sicuramente è una bella gara, una gara importantissima. Inizio Luigi, aiutaci, lunedì 10 ottobre. Lunedì 10 ottobre. Inizio andrà avanti fino? Fino al 3 di novembre, dove ci saranno, è la serata delle finali diciamo, lì ci sarà il clou, speriamo che ci sia uno dei clou più belli della Lombardia, senza togliere niente ad altre società, per l'amor di Dio. E speriamo nel pienone, come dicevi tu il pubblico. E speriamo nel pienone. Importante i giocatori, ma è importante anche a supporto della mannatese, i mannatesi e non solo, che vengono a vedere la partita, che vengono a vedere anche le strutture della mannatese. Parlavamo prima di Chiappella a proposito di campioni, ricordiamo ai nostri telespettatori Carluccio che settimana prossima, proprio venerdì prossimo, quindi manca una settimana, ha un grande appuntamento di Bocce Forum, l'abbiamo detto settimana scorsa, lo ripetiamo anche questa, perché non capita tutti i giorni, di avere qui con noi, Carluccio ricordiamo ancora una volta. Allora, l'avvocato Marco Giugno De Santix, che attualmente è segretario nazionale generale del CIP, si chiama Parolimpico, Comitato Italiano Parolimpico, attualmente è a Rio insieme agli atleti, perché è l'accompagnatore ufficiale, stanno anche avendo dei buoni risultati, abbiamo oltretutto una medaglia torna, una medaglia torna, una medaglia torna, adesso aspettiamo quella di Malnate, abbiamo anche una nostra atleta di Malnate, la Buzzi, che non è seconda a nessuno, aspettiamo anche quello. E in questa trasmissione, che verrà il 23 di questo mese, venerdì prossimo, appunto ci sarà l'avvocato De Santix, che in un dibattito con partecipanti, c'è il Presidente del Comitato di Como, Carnelli Renato, che conoscete, il Presidente del Comitato di Varese, Ardenghi Sergio, che conoscete anche questo, e conoscete anche il Presidente dell'Alto Verbano, Paolo Basile, che non lo conoscono solo quelle delle bocce, ma lo conoscono molto bene anche quelle del calcio, noi bocciofili diciamo purtroppo, quindi nel calcio dicono per fortuna, ecco questo è vero, e poi ci sarà sicuramente l'esponente di spicco dei giocatori, che è Maschiappella, che per forza di cose non poteva mancare un qualcuno che come atleta possa rappresentare la categoria. Grande puntata, ricordiamo, manteniamo lo stesso orario di Bocce Forum, anche perché sappiamo che ci seguite in tantissimi, era scorretto cambiare così l'orario, ma continuiamo con Bocce Forum, sarà una puntata speciale e più lunga naturalmente. Ecco, una notizia che è arrivata da poco, è ufficiosa, però ai primi di novembre ci sarà lo stesso dibattito, che vale sempre per le elezioni a Presidente Nazionale FIB, con Romolo Rizzoli, l'attuale Presidente. Quindi il pallottaggio delle bocce sulle dei 55, si può dire assolutamente le elezioni. Chiudiamo con Luigi, che ci ricorda l'appuntamento con la gara, c'è questo trofeo di Nomacecchini. Sì, trofeo di Nomacecchini. Ma faccio anche una domanda, una curiosità, anche penso dei telespettatori, c'è anche il nome di tuo padre o è quello è un altro torneo? No, 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 qui no, qui no, qui è tutto trofeo di Nomacecchini. Ci sarà ancora però il torneo intitolato? Spero, spero, perché l'ultima volta diciamo che mi hanno fatto un po' arrabbiare, però la voglia c'è, la voglia c'è, vedremo l'anno prossimo di buttare in piedi… Io insisterò che ci sia perché non si può dimenticare il padre di Ivo… E' stato anche Presidente. No, però è stato uno dei collaboratori principali della bocciofia malnatese, Ivo Gualandi, non lo dimentica nessuno e noi siamo convinti che il figlio una gara la farà sicuramente in suo… alle sue modi, sicuramente. Abbiamo dato un'altra notizia senza neanche volerlo. Sì, la voglia di riportare ancora le donne a malnate c'è, vediamo, vediamo l'anno prossimo di vedere, di organizzare qualche cosa di bello. Intanto ci concentriamo su lunedì 10 ottobre, Sesto Torfeo, Dino Maccecchini, non mancate mi raccomando a malnate, grazie ancora Presidente. Prego. E grazie, Carlucci, ci vediamo venerdì prossimo con la puntata speciale sempre alle 21.15 circa, sempre su Rete55, la replica il sabato sul canale 86 alle ore 20. Grazie per averci seguito, a venerdì prossimo, buon weekend, buona serata. Grazie. 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 Grazie a tutti.